Più semplice ancora, azienda, prodotto, non più di un minuto per argomento, invece 10-15 minuti sulle storie che il prodotto dava alle persone, i benefici. Dunque io parlavo sempre del 25% del tempo dell'azienda e dei prodotti, e il 75% del tempo dei risultati dei prodotti, e alla fine di questo microevento, li invitavo all'evento successivo. E all'evento successivo facevamo la stessa cosa, facevamo la stessa cosa, però erano storie diverse, funzionava! Il 99% di questa attività, secondo me, è nell'atteggiamento. 99% di questa compagnia e di questo prodotto è nel comportamento, credo. E qualche distributore qualche volta dice? Si anch'io avrei il tuo atteggiamento se prendessi i tuoi soldi. Si anch'io avrei il tuo atteggiamento se avessi la tua spilla. Prima arriva l'atteggiamento. Poi arriva il soldi. Poi arriva il soldi. L'atteggiamento. L'atteggiamento. They always repeated to me, the behavior. Insomma, ma che cosa vogliono dire con questo atteggiamento? But what do they mean with this behavior? Atteggiamento! Behavior! E io per tanti anni nel network marketing, continuavo a ripetere. Come posso fare? Cosa devo fare? Come posso fare? Cosa devo fare? Come posso fare? Cosa devo fare? Come posso fare? E' un segreto, non è che cosa devo fare, è chi devo essere, è chi devo essere. Non preoccupatevi, io ci ho messo dieci anni a capirlo, e se voi oggi non capite subito, non risparmiate dieci anni, volete risparmiare dieci anni? E allora la domanda non è che cosa devo fare, che tipo di persona devo essere? 30 secondi, ti dico l'ultima cosa, se non muare il cuore ve la voglio dire, e poi me ne vado, ho 15 secondi, non è rispettabile, solo una cosa, può impedirti di fare chiamate. Non ci sono diventati, ma non è... La domanda! La domanda! La domanda! La domanda! E poi la domanda! Grazie.